In una nota apparsa sulla pagina Facebook della Nissa, il club bianco scudato comunica di avere sonerato il tecnico Alessandro Settineri. Nel testo si legge che a Settineri va il ringraziamento per l'operato fin qui svolto e l'augurio di un proficuo lavoro in futuro e che nelle prossime ore sarà annunciato il nominativo del nuovo allenatore. L'esonero arriva dopo le prime tre partite del campionato di eccellenza. Finora la Nissa raccolto un solo punto, frutto del pari casalingo con l'oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo al Palmintelli. In precedenza i bianco scudati erano usciti sconfitti dagli incontri esterni di Casteldaccia e Agrigento. Intanto è stato annunciato il tesseramento di Adama Abdullai Koulibaly, centrocampista francese proveniente dal Guspini, società dell'eccellenza sarda. La Nissa tornerà in campo domenica 2 ottobre contro la Parmonval per la quarta giornata di campionato. La notizia dell'esonero di Settineri ha suscitato sorprese e stupore tra i tifosi bianco scudati, molti dei quali sulla stessa pagina social della Nissa continuano a esprimere commenti di delusione per l'accaduto. Nel frattempo è già toto allenatore. La girandola di nomi tra quelli noti e meno noti potrebbe concludersi comunque a breve. Abbiamo mai.